A mio avviso possiamo solo rispondere che hanno perfettamente ragione, nel senso che è un tema importante, un tema su cui c'è l'attenzione anche dei vertici dell'istituto. Naturalmente tutto questo non nasce tanto per una volontà dell'istituto ovviamente, quanto per effetto di alcune dinamiche che sono dinamiche socio-economiche, le potremmo definire. Sta cambiando il modo di guardare al mondo del lavoro da parte dei giovani e delle persone che potrebbero aspirare ad un lavoro in ambito pubblico, che i concorsi vanno deserti, oppure magari figure nuove assunte poi molto presto rinunciano perché magari sono persone che vengono da fuori sede. Pochi veneti partecipano ai concorsi pubblici, come detto, e pochi veneti hanno partecipato anche al concorso importante che è stato fatto l'anno scorso dall'istituto, che porterà all'assunzione a livello nazionale di circa 4.000 persone, ma la provenienza di queste persone è per la grandissima parte di fuori regione, cioè non sono veneti. Mai, come oggi, il numero di dipendenti dell'Inps è stato così basso. Faccio un esempio. 15 anni fa eravamo circa 2.100 e non avevamo incorporato INP, DAP, ENPAS e quant'altro. Oggi siamo circa 1.300. Fatichiamo però a reclutare personale, in particolare personale veneto. Il poco personale che riusciamo a reclutare è proveniente da fuori regione e chiaramente ha un obiettivo di vita che è l'avvicinamento. Quindi, adesso l'istituto sta dando, darà una risposta in termini di attribuzione di unità aggiuntive anche al Veneto, è importante continuare su questa strada.